Il calendario dice che abbiamo passato da 18 agosto, adesso sono 29-30 giorni insieme, però la verità è totalmente diversa. Adesso, quando siamo ritornati dopo quel torneo in Brindisi, per prima volta la squadra è stata completa e per prima volta questa settimana abbiamo svolto il lavoro che si dovrebbe fare tre settimane, quattro settimane fa. Perché a montagna abbiamo avuto sei o sette giocatori, i primi otto giorni non è stato Camara, non è stato Davide Moretti, non è stato Tyreek Jones. Con sei o sette giocatori, con due o tre, non si poteva fare tante cose. Per questo ho scelto entrare in precampionato, chiamiamo così, con tante gare e tanti giochi per sostituire quegli allenamenti. A principio, quando siamo stati freschi, tutto è andato bene. Tutta la settimana abbiamo lavorato tanto, siamo migliorati individualmente, collettivamente. Esclosivamente solo ieri abbiamo toccato la questione di Venezia. Per questo, in quel momento, siamo orientati più di noi che per quell'opponente che si chiama Reir Venezia. Io voglio vedere la risposta domani di Pesaro. Non mi importa tanto, sì, sono conoscente che giochiamo contro la squadra, che può essere terza o quarta forza di questo campionato, dopo Di Malano e dopo Virtus.Bologna. Io voglio vedere la reazione della nostra squadra, questa è la nostra squadra, non è mia squadra, è la nostra squadra e voglio vedere le reazioni in tutti i sensi, individualmente, collettivamente. Anche ieri abbiamo parlato su cose specifiche del Reir e voglio vedere una partita con più minuti da tutte le parti migliori che abbiamo fatto le ultime due o tre partite in questo precampionato. La partnership con R.A. e Prodi Sport è ormai, siamo il nonno anno quest'anno, ne abbiamo davanti altri quattro, è importante la fiducia che Ario e la società WL ci abbia dato, perché noi, quando ci sono questi contratti così lunghi, ci sono questi matrimoni lunghi, vuol dire che le cose funzionano, quindi siamo veramente contenti e li ringraziamo per la fiducia che ci stanno dando tuttora. Quest'anno abbiamo inserito la parte del piping laterale sia su maglia che pantalone, che in modo che sia continuativa in movimento, ci sono le tre scritte principali, WL Pesero Pesero e Pesero Basket, le abbiamo applicate in diversi stili e diverse grafiche andando a ricercare quello che è stato utilizzato dalla vecchia Vittoria Libertas fino ad oggi. Secondo me è una cosa che caratterizza molto la maglia, come ho detto oggi in presentazione, la rossa avrà un piping più marcato. La maglia dovrebbe essere disponibile, spero, perché ci sono diversi ritardi adesso con le consegne delle aziende, speriamo per la prima partita in casa del 6, dovremo già essere pronti con i nostri shop to shop all'interno della vitrifrigo arena. Le taglie disponibili saranno dal bambino di 6 anni fino alla XXXL, saranno personalizzabili, potremo applicare sia il nome e il numero del giocatore, sia il nome e il numero del cliente, quindi se un cliente ha una richiesta particolare, una scritta, qualsiasi cosa.